Ciao a tutti e benvenuti su questo video. Oggi studiamo una sequenza di accordi con un arpeggio. Gli accordi che studiamo oggi sono con il capotasto mobile messo sul secondo tasto. Poi andiamo alla posizione del Mi minore, la posizione del Do, la posizione del Sol e la posizione del Re. E facciamo questo arpeggio. Bene, con questo è tutto. Ci vediamo al prossimo video con nuove sequenze di accordi, nuove ritmi e a presto. Iscrivetevi al canale e attivate anche la campanella così verrete avvisati quando inserisco nuovi video. Ciao e a presto.